I highlights di gara 2 del campionato italiano di Formula 4 con la pole position di Yuri Vips, la seconda posizione in griglia di partenza per Mick Schumacher, le loro spalle Giuliano Raucci e Cush Maini ed è subito Mick Schumacher, il figlio del pluricampione del mondo, a prendere la leadership della gara seguito da Yuri Vips, una configurazione questa nelle prime due posizioni che si si manterrà per tutta la gara con alle loro spalle l'ottimo, vediamo qualche uscita, successivamente poi proprio per via dell'asfalto ancora bagnato dopo la pioggia della notte, l'umidità della notte, vedremo l'ingresso della safety car, sarà anche per rimuovere questa vettura che è quella di Devlin e De Francesco che attraversa la pista fortunatamente senza nessuna conseguenza, si riparte dopo la neutralizzazione con Schumacher sempre leader davanti a Vips con Raucci e Bertonelli alle loro spalle, vediamo il confronto qui per le posizioni di centro classifica, Hugenberg che si gira senza nessun problema al tornantino ma soprattutto sarà il confronto tra Guzman, Artem e Maini a incendiare le ultime fasi mentre Schumacher conquista la vittoria davanti a Yuri Vips e Giuliano Raucci con la quarta posizione di Bertonelli, poi Sibert e Guzman in sesta piazza e questi sono i festeggiamenti per Mick Schumacher con il prima power team che fa doppietta piazzando Yuri Vips in seconda posizione.